Salve, mio nome è Mirko Pinotti, sono un ricercatore presso il Dipartimento di Biochimica e Biologia Melodicolare dell'Università di Ferrara. Mi occupo, nell'ambito delle mie ricerche, di ricerca biomedica e in particolare di studiare i meccanismi alla base di malattie emorragiche della coagulazione, tanto per fare un nome che tutti conoscono, l'emofilia, ovvero i pazienti che quando prendono una botta o in seguito a piccoli traumi anche spontaneamente sanguinano, e di capire quali sono i meccanismi e di sfruttare queste conoscenze per mettere a punto, disegnare, delle strategie terapeutiche innovative. Queste patologie sono rare, se considerate singole, ma sono abbastanza frequenti, se pensiamo all'emofilia A che colpisce 1 su 4.000 persone. Al momento attuale ci sono delle terapie, ci sono, sono molto costose, ma non sono soddisfacenti. Quindi quello che noi tentiamo attraverso modelli in laboratorio, cellulari e anche attraverso l'utilizzo di animali in collaborazione con gruppi stranieri, è appunto di mettere a punto delle strategie che possono curare per l'intera vita questi pazienti che spesso sono bambini che vanno incontro a emorragie intracraniche nei primi giorni di vita. Un problema che l'Università sente, quindi che sento anch'io come ricercatore, è assolutamente quello del riprendimento dei fondi. Nel mio caso specifico, fortunatamente in questi anni c'è stato Teleton e anche la fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara che ci ha aiutato molto, ma non nego, non nego che se non ci fossero stati questi finanziamenti la vita sarebbe stata molto più difficile, soprattutto perché le nostre ricerche, ripeto ambiziose perché cercano di curare bimbi, sono molto costose. Quindi c'è da un lato il problema del riprendimento dei fondi per condurre le ricerche e dall'altro quello per supportare e pagare giovani che aspirano alla carriera accademica. Ce ne sono diversi, ci sono persone molto motivate, molto promettenti ed è veramente un dispiacere non poter essere in grado di garantire loro un futuro. In questo periodo è in corso questa sollecitazione, un invito a chi volesse donare il 5 per 1000 anche all'Università di Ferrara. Io dico solo che in questi momenti contingenti molto difficili per tutti gli Atenei, anche questo contributo è sicuramente di grande aiuto per noi, non tanto per i singoli, ma perché questi finanziamenti vengono utilizzati per acquistare grandi attrezzature, grandi attrezzature che permettono a gruppi di ricercatori di poter affrontare la spesa di strumenti che altrimenti non potrebbero acquistare e questo da un lato ci permette di avere macchine nuove per approfondire le ricerche e dall'altro stimola anche sinergie tra gruppi per condurre ricerche migliori. Grazie a tutti! Grazie a tutti!